buongiorno carissimi amici di youtube buongiorno come avete visto il blog di alessandro lopez un bellissimo articolo di me e mia sorella fontina zollo e sabina morelli nell'articolo del festival di umbria e siamo stati premiati blog di alessandro lopez andate a vedere anche su facebook che c'è il link chi non riesce a leggere il video ok allora vi voglio ricordare vi voglio ricordare per giocare all'otto 48 84 a bari nazionale entro il 15 novembre si dovrebbe presentare e 21 e 12 si è presentata al secondo colpo di gioco sperando pure questo si presenta in pochi colpi però ricordate se esce l'estratto non vale più la professione se esce solo il 48 esce solo il 84 non esce più si cambia ok adesso in quadro la lavagnetta oggi martedì 29 ottobre manca poco finito quasi ottobre entro il 15 novembre si dovrebbe presentare questo bellissimo ambambetto bari nazionale 48 84 ok vi auguro una buona fortuna a tutti voi condividete quest'altro nuovo video mettete mi piace iscrivetevi al canale youtube e seguitemi su facebook e su instagram e su tutti i social un bacione e buona fortuna ciao